come se non avessi detto niente questo è il punto rispetto a quello che si diceva prima che tutto quello che ci fosse per la testa lo dobbiamo necessariamente dire penso che sia una questione di controllo degli impunzi e soprattutto banale non deve essere per gli altri questa è una cosa che noi abbiamo dato banale e diretto per immaginare che sia un'altra regione che facciano bene un complimento lo sia anche per chi lo riceve grazie grazie